Buongiorno a tutti, io mi ricollego con quello che ha appena detto il relatore precedente, io invece, a contrario di come lui ha precisato, io invece sono il giurista della situazione e quindi farò il pignole, il rompiscatole su alcuni concetti e magari anche avrò delle slide che per chi non ha una forma mentis giuridica verranno percepite un po' noiose, spero di no, nel senso che alcune hanno delle norme che commentiamo insieme e quindi cerchiamo di renderle non noiose, però quando si parla di diritto è difficile non partire da dei concetti che a volte sono scritti in norme giuridiche. Allora, come vedete io ho dato un sottotitolo a questa mia presentazione che è molto focalizzato sulle licenze, le licenze per Open Data e Open Science, ma per arrivare a capire come funzionano le licenze per Open Data e Open Science, di cui in realtà abbiamo già visto un piccolo scorcio nell'intervento appena precedente di Dario, io invece, il mio non sarà un piccolo scorcio, sarà un bel 20 minuti, mezz'oretto, proprio sulle licenze Creative Commons applicate nel mondo dei dati, della scienza e dell'Open Access e via dicendo. Però per arrivare a quello noi dobbiamo fare un po' di premesse, perché non tutti, anzi credo, molti pochi di voi avranno nozioni giuridiche alle spalle e anche chi ha fatto studi giuridici non è detto che conosca come funziona il diritto d'autore, perché è una materia che anche a giurisprudenza non si studia come materia obbligatoria e quindi la prima parte sarà un po' di nozioni, concetti di base del diritto d'autore. Qua trovate un po' di miei riferimenti in rete, io sono molto attivo sulle varie piattaforme, come vedete anche social, ho un blog, ho fatto un post in cui parlavo di questa mia lezione, se andate a vedere su questa mia lezione per la Summer School, c'è il mio sito personale e professionale, poi il sito dello studio legale, diciamo, del network di professionisti con cui collaboro, c'è Twitter, c'è la pagina Facebook, ecco, fate attenzione se mi cercate su Facebook, cercate la pagina e non il profilo privato, ma soprattutto Slash Share, Slash Share è il luogo in cui metto le presentazioni slide, tra cui anche quella che state vedendo adesso, quindi chi volesse andare a scaricare live, averla sul tablet, averla sul computer, questa presentazione per magari prendere degli appunti, fare delle annotazioni sul file, le trovate questa qua di oggi, ma anche tutte le presentazioni slide che ho utilizzato da quando faccio questo mestiere ad oggi, quindi insomma sono circa 200-210 presentazioni, tra cui alcune su questo argomento, quindi magari alcune sono proprio un'occasione per approfondire cose che oggi non riusciamo a dire bene perché abbiamo meno tempo del solito, io faccio anche formazione a volte di 4 ore, 5 ore intensive su questi temi, ci sono anche i video tra l'altro, cioè da quando sono entrati nell'era della formazione online, del fatto che tutto si è spostato online, ho registrato molte dei miei interventi come sto facendo anche adesso e quindi quelli sono finiti poi sul canale YouTube, non ho messo qua il link al canale YouTube, ma lo trovate, mettete Simone Riprandi YouTube, e lì ci sono intere lezioni, interi videocorsi sulla proprietà intellettuale, sull'open science, sull'open data, uno anche molto recente che ritengo mi sia venuto anche abbastanza bene per un corso di perfezionamento in statale a Milano, che tratta un po' dei temi di oggi, molto più approfondito però. Qua ci sono un paio di mie pubblicazioni, le cose che vi dico oggi sul concetto, sulla tutela dei dati, delle banche dati e delle licenze per open data, lo trovate scritto per esteso in questo libro, abbastanza recente perché è settembre 2020, ma anche, vedete, cose invece più genericamente rivolte al concetto di open access, quindi non solo dati, ma pubblicazioni scientifiche in generale, le trovate in Fare open access, che è un libro di cui io sono curatore e anche autore del capitolo, diciamo, di carattere giuridico. Poi gli altri sono, vedete, Nicola Cavalli è un editore che porta il punto di vista di un editore, che è interessante perché capire come mai una casa editrice abbia voglia di avventurarsi nell'editoria open access, in un'editoria in cui per definizione c'è libero accesso al contenuto. E poi, vedete, Elena Giglia, Valeria Scotti e Ivana Trucro sono esperte del mondo delle biblioteche, degli archivi digitali, dell'open access, visto dal punto di vista appunto dell'organizzazione raccolta dei contenuti, che porta appunto il loro punto di vista, soprattutto Elena Giglia ha fatto studi molto ampi e approfonditi sull'open science, se ne occupa anche come formatrice. E poi di qua vi lascio anche il libro di Carlo Piana, che è un collega che ha fatto questo manualetto introduttivo a tutto il concetto di openness e delle libertà digitali, quindi anche le cose che vi verranno dette ad esempio domani da Marco Ciurcina, che parlerà di software libero, ecco, le trovate, trattate molto bene qua dal collega Carlo Piana. Tutti questi libri che vi ho citato sono rilasciati con licenza open, con licenza creative commons, quindi si possono trovare nei link che cliccate qua e li trovate anche su vari depositoli se li cercate, e quindi sono già un primo esempio di pubblicazioni open access. Le stesse slide che state guardando sono open access, cioè queste slide vengono rilasciate con la licenza creative commons attribution share alike e che è quindi una delle più open del set di creative commons, come vi farò vedere dopo. Allora, siamo arrivati alla prima parte, come vi avevo preannunciato, in cui vi devo dare le basi, le basi diciamo giuridiche, di concetti che ci aiutano poi a capire cosa vuol dire applicare una licenza su delle banche dati o su dei contenuti scientifici. Capiamo innanzitutto cos'è il diritto d'autore, perché siamo ovviamente nell'ambito del diritto d'autore e quindi dobbiamo capire di cosa si occupa questo diritto d'autore. Molti confondono il diritto d'autore con il mondo dei brevetti, il mondo dei marchi, quindi il diritto d'autore in inglese viene chiamato copyright, anche se in realtà non sono la traduzione l'uno dell'altro, sono due concetti leggermente diversi perché vengono da appunto due ordinamenti giuridici diversi, il diritto d'autore figlio del modello diciamo francese, europeo, continentale, copyright invece viene dal modello anglosassone, poi portato in tutti i paesi dell'ex impero britannico e che adesso sta diventando un po' il modello predominante perché tramite una sorta di meccanismo diciamo di colonialismo o giuridico potremmo dire, il copyright americano è portato anche in paesi in cui in realtà c'è il diritto d'autore in senso francese, come appunto in Italia, tramite l'utilizzo nel mondo della discografia, nel mondo della cinematografia, nel mondo del software, delle banche dati, cioè ormai buona parte dei contenuti vengono prodotti nel mondo americano e quindi ci portiamo in casa anche il modello giuridico di gestione dei contenuti. Ad ogni modo, noi in Italia abbiamo questa legge che vedete, la 6.3 del 1941, che è la nostra legge sul diritto d'autore, diciamo una legge speciale che si occupa interamente di diritto d'autore, sono circa 200 articoli e nei primi articoli ci definisce di cosa si occupa il diritto d'autore, ci circoscrive il campo d'azione di questo istituto giuridico che si chiama diritto d'autore e dice, vedete, sono protette i sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque nel suo modo la forma di espressione. Quindi parliamo di questa cosa qua, parliamo di un meccanismo giuridico per tutelare la creatività in queste forme, quindi le più classiche, non vedete, la letteratura, la musica, l'arte figurativa, l'architettura, il teatro e la cinematografia. E poi aggiunge nel secondo paragrafo, sono altresì protetti i programmi per il laboratore come opere letterarie e nonché le banche di dati che per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Ecco che cominciamo ad avvicinarci a quello che ci interessa, cioè, visto che dobbiamo arrivare a parlare di open data, eccole qua, le banche di dati, cioè, come vi spiegherò meglio dopo, non sono tutelati davvero i dati in sé, ma i dati raccolti in forme di banche dati, in qualcosa, in una massa organizzata di dati, che è appunto la banca dati. Però noi parleremo anche di open access sulla letteratura scientifica, e quindi eccola qua. Ok? Quindi gli articoli, le riviste, le monografie, ok? Anche la sbobinatura di una lezione è un'opera letteraria, paradossalmente, cioè, se uno di voi domani si registra e si sbobina questa mia lezione di un'ora e mezza, viene fuori un'opera letteraria, viene fuori un saggio, un piccolo saggio, un piccolo articolo sul diritto d'autore, sulle licenze open, ok? E quindi è un'opera letteraria, quindi siamo in quest'ambito qua, quindi non confondete il diritto d'autore con il brevetto, che si occupa ad esempio di invenzioni industriali, o il marchio, che si occupa appunto di marchi commerciali, di simboli che vengono applicati a dei prodotti commerciali. E più nello specifico, vedete l'articolo 2, sempre della stessa legge, ci crea dieci categorie di opere, che sono quelle tipicamente previste dalla nostra legge. E come vedete, iniziamo dal primo, che è uno di quelli che ci interessa, che è appunto le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale. Quindi letterarie, ma anche drammatiche, anche scientifiche e didattiche, che sono, diciamo, il tipo di opera letteraria di cui parliamo quando abbiamo a che fare con il concetto di open access. E vedete che dice tanto se in forma scritta quanto se in forma orale, quello che vi dicevo prima, cioè l'opera letteraria può essere anche espressa in forma orale e poi diventare scritta in un secondo momento. Poi parla di opere musicali, non credo che ci interessi in questa sede, parla di opere coreografiche, tantomeno ci interessa. Opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione, ok, non ci interessa, però è utile per capire il quadro completo. I disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica muto-sonora, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quella della fotografia. Poi abbiamo, nella seconda parte della norma, perché è una norma molto lunga, già l'ho tagliata e l'ho dovuta dividere in due slide, i programmi per l'elaboratore, in qualsiasi forma espressa, perché originali, il risultato della creazione dell'intellettuale di un autore, e ho messo in rosso volutamente il punto 9, le banche di dati, no? Visto che dobbiamo arrivare a parlare di Open Data. Le banche di dati, guardate, ci dà anche una definizione di che cos'è la banca dati, secondo ovviamente il diritto. Una banca dati di cui al secondo comodo l'articolo 1, che era quello che abbiamo letto prima, intese come, eccola qua la definizione, raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Quindi, vedete, è un insieme organizzato di dati che possono essere sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o anche in altro modo. Cioè, noi siamo abituati a pensare alla banca dati come qualcosa di necessariamente ormai elettronico, ma non è detto che sia così. La banca dati esiste ancora in forma analogica. Pensate a un archivio storico, l'archivio storico di un comune, di una biblioteca, di una fondazione, oppure una biblioteca stessa è una banca dati in un certo senso, perché io posso cercare ancora utilizzando i vecchi faldoni, i vecchi, non so se avete presente, quei cassettini che si trovavano nelle biblioteche in cui c'erano i libri divisi per ordine alfabetico, oppure per data di pubblicazione, oppure per il nome dell'autore. Quindi, ovviamente, un modo più rudimentale e più limitato di cercare un'opera, di cercare un libro, ma comunque rappresentano un concetto, una versione analogica del concetto di banca dati. E dice poi che la tutela delle banche dati, vedete, prosegue qua l'articolo, la tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo a che fare con la banca dati, che contiene delle opere che hanno dei loro diritti separati, si creano due strati, cioè uno strato, diciamo, di diritti d'autore, di copyright su la scatola vuota, sull'organizzazione della banca dati, e poi diritti sui singoli contenuti. Vi faccio un esempio così capite. Banca dati di fotografie. Una banca dati di fotografie recenti, quindi di cui gli autori non sono caduti in pubblico dominio, quindi sono ancora tutelati dal diritto d'autore, e noi dobbiamo tenere presente che c'è sia il diritto di colui che ha creato la banca dati, e che quindi ha organizzato queste fotografie secondo dei criteri, ma poi c'è il diritto di tutti i vari autori che hanno fatto le fotografie, che viaggiano su dei binari separati, quindi colui che fa la banca dati deve poi, se vuole mettere in commercio, mettere a disposizione questa banca dati, farsi dare l'autorizzazione da parte di tutti i vari autori delle fotografie. È un caso che in realtà noi interessa un po' meno nell'ottica dell'open data, cioè quando noi parliamo di open data parliamo di dati che sono dati puntiformi, dati crudi, dati disaggregati, non so, varie forme per dire il singolo dato numerico, ad esempio, e quindi non abbiamo a che fare con opere creative come una fotografia, come un libro, come un, che ne so, un brano musicale, però ecco, si possono creare anche banche dati di fotografie, di brani musicali, di video, e che quindi dobbiamo ricordare di trattare in modo separato, perché ha un livello di diritto di tutela ulteriore, vorrebbe che ci sono i diritti di coloro che hanno fatto i vari, diciamo, i vari componenti di questa banca dati. C'è anche un punto 10 che ho lasciato andare, nel senso che ho lasciato in secondo piano, però le opere del design industriale che rappresentano di per sé carattere creativo e valore artistico. Ad ogni modo, con queste due slide abbiamo in un certo senso definito di cosa si occupa il diritto d'autore, ci siamo, come avete notato, fermati un po' di più sul punto 9, che ho volutamente messo in rosso perché parla di banche dati, e avrei dovuto mettere in rosso forse anche il punto 1, le opere letterarie, drammatiche, ma soprattutto scientifiche e didattiche, perché sono le due cose di cui andremo a parlare. Dovremmo capire come funzionano un po' i diritti di tutela, il diritto d'autore su questi tipi di opere, per capire poi come si applicano le licenze. Guardo l'ora, ok. Altro meccanismo ai più sconosciuto e che spesso crea equivoco e crea leggende metropolitane è come si acquisisce il diritto d'autore. Allora, secondo la nostra legge, ma anche la legislazione dei principali paesi industrializzati, il diritto d'autore, a differenza del marchio e del brevetto, non si acquisisce registrando l'opera, depositando l'opera da qualche parte, ma si acquisisce automaticamente con la creazione dell'opera. Mi raccomando, questo concetto mettetelo bene a fuoco, perché sennò cadete nell'equivoco. Non capite perché sia necessario mettere delle licenze open alle proprie opere. Cioè, automaticamente nel momento in cui io creo la mia opera divento titolare dei miei diritti, di tutti i diritti d'autore che la legge prevede a favore di un autore che ha creato quel tipo di opera. Dopo vi faccio vedere. Quindi non devo fare nulla per diventare titolare del copyright. Non devo andare alla CIA, a depositarlo, non devo mandarmi la raccomandata che ho ricevuto di ritorno. Ho automaticamente tutti i diritti. Quindi tutte le opere create da un essere umano che rispecchia, che rientrano in quei dieci tipologie che abbiamo visto prima e che denota quel minimo carattere creativo che abbiamo detto, abbiamo letto in articolo 1, automaticamente viene tutelata dal copyright. Faccio un'annotazione, non me ne voglia Dario che ha parlato prima. Lui prima ha detto i preprint sono per definizione open. No, nel senso che i preprint non è che sono open. I preprint non hanno ancora probabilmente un diritto da parte dell'editore, perché non sono stati ancora oggetto di contratto d'edizione. Ma l'autore ancora ha assolutamente un copyright su quei contenuti, perché appunto l'autore di un articolo scientifico, di una monografia, nel momento in cui ha scritto l'opera, diventa automaticamente e istantaneamente titolare dei diritti. Se poi decide di fare un contratto d'edizione, di cedere questi diritti ad una casa editrice per fare la monografia, per pubblicare la monografia o per essere inserito in una raccolta di articoli o su una rivista, allora ci sarà un nuovo titolare dei diritti che sarà l'editore, ma sulla base di un contratto. Cioè è il contratto che cede questo diritto, ma il fatto che ci sia un contratto implica che ci sia qualcuno che prima questo diritto lo detiene, ed è l'autore. E non a caso si chiama diritto d'autore, no? Fateci caso. Se si chiama diritto d'autore, è perché in origine è l'autore il titolare di questa tutela, di questa forma di tutela. Ed è appunto una tutela che è automatica, non costa nulla, cioè io non devo pagare nulla a nessuno per dichiarare sotto copyright un mio articolo o una mia opera. Perché vi dico che è fondamentale capire questo concetto? Perché se non capite questo concetto, non capite la necessità di mettere una licenza open sulle opere e sui dati. Perché se uno pensa che il copyright non si acquisisce automaticamente, ma bisogna in un certo senso dichiararlo e acquisirlo, allora uno potrebbe dire, vabbè, ma se io voglio lasciare i miei articoli, i miei dati liberi dal copyright, basta che non dico nulla e quindi la gente li può usare liberamente. No, assolutamente no. Questa è una delle principali leggende metropolitane che bisogna sradicare in questo settore. molto diffusa, ve lo dico, molto molto diffusa. Però ecco, voi da oggi in poi non siete più autorizzati a crederci. Perché non è vero. Io tutto ciò che trovo in giro, anche in rete, e che non ho fatto io, devo tendenzialmente trattarlo come qualcosa che è sotto copyright, perché è stato creato da qualcun altro e quindi questo qualcun altro avrà i diritti. Ok? E questo implica che quindi quando voglio rilasciare liberamente una mia opera, lo devo dire espressamente. Ecco perché le licenze open, ecco perché si mettono delle licenze per dire che un contenuto o una banca dati sono libera da copyright. Ok? E adesso da qua in poi vi ho illuminato un po' il cammino. Vabbè, questa è un'altra norma importante che però, diciamo, ci chiude il cerchio visto che abbiamo visto di cosa si occupa il diritto d'autore, vediamo di cosa non si occupa, perché il diritto d'autore non si occupa, vedete, la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento e i concetti matematici in quanto tali. Cioè, non è protetto dal diritto d'autore il concetto in sé ma è come io esprimo il concetto. Ovvero, io posso scrivere, tenendo l'esempio della matematica che abbiamo visto benissimo nell'intervento di Dario, la matematica tendenzialmente è sempre se stessa, non è che ci siano tanti modi di concepirla, ma ci sono tanti modi di raccontarla e di spiegarla. Quindi, un autore di manuali di matematica decide di scrivere il manuale in un certo modo, in un modo diverso da quello dell'altro manuale. Non so, pensate al manuale di matematica per l'istituto tecnico e il manuale di matematica per il liceo scientifico. Parlano probabilmente della stessa matematica ma sono impostati in modo diverso da autori diversi che quindi hanno un copyright legittimamente su queste loro opere ma che non è legato ai concetti in essi raccontati ma nel modo in cui vengono espressi. Quindi, si dice che il copyright e il diritto d'autore agisce sull'espressione, sulla forma espressiva dell'opera e non su le idee, i procedimenti, i concetti matematici in quanto tali o i metodi, tantomeno i metodi non possono essere tutelati da diritto d'autore. E quindi arriviamo a questa slide che io uso spesso come una sorta di mappa orientativa, mappa concettuale orientativa di quello che diremo da qua in poi e che vi fa capire, abbiamo detto che il copyright scatta automaticamente su tutto ciò che viene creato e che ha un minimo di carattere creativo quindi il copyright è concepito per essere un meccanismo closed by default cioè automaticamente si applica e quindi tutto ciò che io trovo in giro a meno che io sia sicuro che sia o caduto in pubblico dominio perché sono scaduti i termini vedete qua lo dico a un certo punto il copyright per fortuna non è eterno dura ad esempio sulle opere letterarie su buona parte delle opere dura 70 anni dalla morte dell'autore quindi a un certo punto le opere dei grandi autori diventano di pubblico dominio le possono utilizzare tutti non devono chiedere il permesso a nessuno e quindi viva Dio il copyright in quel caso è finito oppure devo essere sicuro di ricadere in una situazione di libero utilizzo come vi faccio vedere prima però come vi farò vedere dopo però tendenzialmente io devo trattare anche in ottica prudenziale tutte le opere che trovo e che non ho scritto io non ho realizzato io come se fossero sotto copyright quindi la regola generale è proprio questa la regola generale è che è tutto sotto copyright salvo arrivare alla scadenza dei termini di durata di questo copyright e quindi cadere in pubblico dominio qua abbiamo una situazione che è un po' vedete un po' rigida un po' bianco nera o tutto sotto copyright o tutto fuori dal copyright per fortuna come vi anticipavo l'ordinamento giuridico ha già capito ha già pensato che questa situazione sia troppo rigida sia troppo sia poco funzionale perché è troppo troppo bianca nera troppo binaria allora ha creato delle eccezioni al diritto d'autore cioè delle situazioni in cui il diritto d'autore viene messo dall'ordinamento giuridico in secondo piano a favore di altre di altre esigenze di altri diritti che ritiene più importanti da tutelare e vedete che il libro utilizzo in effetti nella sua prima forma può avere radice in una norma di legge nella legge quindi nella legge italiana sono gli articoli che è la stessa di prima la legge 6.3 del 1941 sono gli articoli dal 65 e seguenti c'è una bella lista di articoli molto lunga di situazioni in cui vengono create delle eccezioni per cui io utilizzatore posso utilizzare liberamente l'opera senza chiedere il permesso al suo titolare dei diritti quindi all'autore o all'editore al produttore discografico al produttore cinematografico a seconda dei casi devo però essere sicuro di essere in una di quelle eccezioni devo andare a leggere la norma e capire bene se sono in quel caso se ricado in quel caso l'alternativa è quella che ci interessa cioè noi non parleremo oggi delle libere utilizzazioni quelle basate sulla legge ma parleremo esattamente di queste cioè di quando il libero utilizzo trova la sua radice non tanto in una norma di legge ma in un atto volontario del titolare dei diritti che può essere come vi ho detto l'autore ma anche l'editore a seconda dei casi cioè di colui che avendone la facoltà giuridica avendone il copyright decide di rilasciare la sua opera con una licenza che consente degli usi liberi quindi il libero utilizzo trova la radice nella licenza e infatti vedete è un libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti e come simbolo vi ho messo la doppia c cerchiata cioè creative commons l'abbiamo già vista brevemente nella presentazione di Dario e le vediamo molto più nel dettaglio fra poco nella mia presentazione però ecco adesso con questa slide secondo me vi orientate già avete capito di come in realtà funziona il copyright ci sarebbero da dire tante cose lo so capisco che dire cercare di dare una panoramica sul diritto d'autore in 20 minuti sul tampo polpettone però non c'era altra scelta però almeno avete capito che questa è la regola generale e poi ricadiamo in una situazione invece di eccezione di libero utilizzo e lasciamo volutamente in secondo piano le libere utilizzazioni stabilite da legge perché sarebbe richiederebbero una lezione di tre ore solo loro sono molto lunghe molto complesse e ci soffermiamo invece su su questo cioè quando il titolare dei diritti sceglie liberamente autonomamente di liberare la sua opera concedere alcuni liberi utilizzi sulla sua opera attraverso l'applicazione di licenze open di licenze appositamente pensate per fare questo lavoro per liberare le opere ed è a voi magari può sembrare disorientante perché siamo abituati in realtà ad avere a che fare con licenze che sono dopo vi faccio vedere in una salve molto chiara che sono proprietarie cioè che sono invece utilizzate per limitare ulteriormente gli utilizzi dell'opera non voi aprite la licenza di windows la licenza dei mac os di qualsiasi software proprietario di adobe photoshop di quello che volete leggete la licenza e scoprite che avete una marea di vincoli ulteriori rispetto a quelli che normalmente la legge attribuisce e quindi la licenza viene percepita solitamente come qualcosa che vincola in questo caso la licenza invece è qualcosa che libera ok è uno strumento per stabilire il libero utilizzo dell'opera chiuso quindi questa premessa andiamo un attimo a un livello di dettaglio maggiore per capire come funziona cioè di cosa è composto il diritto d'autore abbiate pazienza nel senso che solitamente io dedico nei miei corsi molto più tempo a questa parte quindi questa slide mi sembra molto complessa molto compressa molto densa però è giusto per darvi la panoramica questi sono tutti i diritti normalmente previsti della legge 633 del 41 e vedete che c'è una prima in alto una prima dicotomia tra diritti tipo personale perché il nostro diritto d'autore ha una valenza anche di diritto che tutela la sfera personale i cosiddetti diritti morali d'autore ma poi ci sono i cosiddetti diritti di tipo patrimoniale cioè quelli che sostanzialmente hanno la funzione di permettere agli autori e ai loro altri soggetti che lavorano nella catena della produzione di opere di remunerarsi grazie alla loro opera alla diffusione allo sfruttamento economico della loro opera quindi si crea un meccanismo che è chiamato punto diritto esclusivo per cui se sostanzialmente attraverso attraverso il diritto attraverso lo strumento giuridico creiamo una scarsità che in natura non ci sarebbe cioè il fatto che io non possa usare un'opera che ho trovato sulla rete che ho trovato su internet perché c'è un copyright è ovviamente appunto una questione puramente giuridica cioè io sarei non ci metterei nulla a schiacciare il tasto download e pubblicare la foto che ho trovato su Instagram di Tizio di Caio è il copyright che mi dice che non lo posso fare e che mi dice che se voglio farlo devo chiedere il permesso a Tizio a Caio che hanno i diritti su quella foto e quindi ho creato una scarsità artificiale potremmo dire con la barriera giuridica tra questi diritti di tipo patrimoniale come vedete vi ho cerchiato in verde il cosiddetto diritto sui generis che è chiamato sui generis proprio perché è sui generis è un diritto molto diverso da tutti gli altri che storicamente facevano parte di questo albero ed è insieme all'eco-compenso fa parte di una categoria un po' a sé stante lasciate perdere l'eco-compenso che è davvero un meccanismo un po' tutto suo però ecco il diritto sui generis è un diritto particolare diritto che nasce a favore del costitutore di una banca dati anche quando la banca dati non ha il carattere creativo come vi ho citato prima come reclusito del diritto d'autore ve lo spiego meglio dopo sta cosa però ecco era per darvi una panoramica di più o meno dove ci muoviamo quando noi parliamo di open data di tutela dei dati siamo qua cioè in questo pezzo del diritto d'autore e adesso lo capiamo meglio cioè cerchiamo di fare lo step successivo cioè capire come funziona la proprietà intellettuale sui dati allora innanzitutto capiamo cosa si intende per dati perché c'è grande grande confusione io so ad esempio che per un informatico per chi ha una formazione da informatico da tecnologo dati sono tutte quelle cose che si salvano su una memoria sono dati le mie foto sono dati i miei testi sono dati i miei ebook che ho comprato su amazon ce li ho lì sono dati per il diritto alla proprietà intellettuale in realtà bisogna essere molto molto più precisi in realtà io suggerirei di essere più precisi non solo in ottica giuridica ma in generale perché dato è vedete questo è un disegno che circola in rete da tempo molto esplicativo e molto efficace vedete fa vedere i dati in una versione a sinistra che sono dei punti nemmeno colorati dei puntini ma non ancora colorati poi li chiama information quando questi dati hanno già un colore e poi li chiama knowledge cioè conoscenza quando questi dati vengono quando scusate queste informazioni che a loro volta erano basate su dati vengono strutturate in qualche modo anche qua potremmo essere più precisi però è già più è già interessante ci illumina un po' il cammino io vi faccio un altro esempio con una slide che è fatta da me ovvero guardate questi questi quattro dati noi abbiamo 1225 se io mi fermassi lasciassi mi facessi mi proiettassi solamente la prima riga 1225 voi avete un dato che è un numero e non capite se è una data potrebbe essere un anno una data una misura potrebbe essere appunto una misura di lunghezza di altezza di profondità potrebbe essere l'età di un meteorite non lo so potrebbe essere qualsiasi cosa potrebbe essere il numero dei contagiati che ci sono stati il giorno il giorno X ok se io aggiungo un secondo dato metri comincio a capire che è una misura se poi ci aggiungo anche altitudine capisco che è una misura particolare cioè capisco che questi metri sono metri sul livello del mare quindi dovrebbe essere un metri SLM e poi se ci aggiungo Bormio cioè se aggiungo il nome del comune di un comune di una località capisco che questa è l'altitudine del comune di Bormio e questa è l'informazione ok fino al quarto punto io non avevo davvero l'informazione cioè mi mancava troppo poco cioè mi mancava troppo quel pezzo lì che che completa il quadro che completa il puzzle e quindi mi lasciava non aveva dato colore no non aveva dato completamente colore a questo pallino adesso con queste quattro con questi quattro dati messi insieme collegati tra loro io ottengo l'informazione quando noi parliamo di open data di banche dati dobbiamo pensare che parliamo di agglomerati di queste cose qua scusate di queste cose qua cioè di file perché ormai parliamo quasi unicamente anche se come vi ho detto le banche dati possono essere analogiche però ormai nel mondo degli open data parliamo di dati digitali parliamo di masse di questa roba qua che poi vanno collegate vanno incrociate in qualche modo per dare loro significato però noi dobbiamo capire come e quando c'è un diritto un copyright o qualcosa di simile su queste cose qua perché come potete capire non possiamo dire che sul singolo dato ci sia un diritto d'autore no? cioè sul singolo su questo numero ovviamente non c'è un diritto d'autore perché non è un'opera creativa anche se io lo associo a metri non è nulla anche se dico altitudine non è nulla ma anche se dico che l'altitudine di Bormio cioè lo faccio diventare l'informazione su questa informazione non c'è un copyright cioè non c'è un diritto che che vieta ad altri di utilizzare questa informazione cioè io che ho per primo misurato l'altitudine del comune di Bormio ipotizziamo che sono il primo ad essermi ad aver trovato uno strumento che mi permette di dire che Bormio sta a quell'altitudine e nessuno prima di quel momento l'aveva l'aveva misurato non è sufficiente per dire che io ho un copyright che io posso vietare ad altri di utilizzare quell'informazione perché non c'è un copyright sulle singole informazioni sulle informazioni crude ma posso vantare un copyright ad esempio sull'articolo il paper l'intervista in cui spiego come sono arrivato a misurare questa attitudine capite la sfumatura che non è da poco quindi noi adesso dobbiamo ragionare su nell'ottica di vedere se il diritto se il diritto della proprietà intellettuale del copyright in generale prevedono una forma di tutela per questa roba qua per singola informazione e vi dico fin dall'inizio sulle singole informazioni non c'è un vero e proprio copyright l'unico modo per tenere sotto chiave se noi vogliamo difendere questa informazione dall'utilizzo di altri da parte di altri è il segreto cioè non dirla a nessuno no io sono il primo ad aver scoperto queste cose non voglio che venga utilizzata impropriamente da altri vincolo le persone che parlano con me a degli accordi di riservatezza oppure non gliela dico proprio cerco di tenerla nascosta il più possibile se sono costretto a dirla faccio firmare degli accordi di non divulgazione il fatto che io sia costretto a far firmare un contratto il fatto che io sia costretto a far firmare un contratto è il sintomo che non c'è un copyright che lo copre perché se io sono obbligato a ricorrere allo strumento contrattuale da qui deduciamo che appunto non ci sia una forma di tutela prevista dalla legge quindi c'è o non c'è un copyright sui dati risposta quello che vi ho detto prima no tecnicamente non esiste un copyright sui dati sui semplici dati o su semplici informazioni quindi per tutelare i dati crudi dobbiamo fare ricorso ad altri strumenti giuridici come il segreto o gli accordi di riservatezza tuttavia però vi ho fatto vedere prima che nel nostro albero dei vari diritti previsti dalla legge italiana ma anche da tutte le altre leggi dei paesi europei c'è un diritto specificamente pensato per le banche dati quindi come funziona dove è il limite il fatto è che appunto in una direttiva europea 1996 la direttiva 96-9 del CE è stato introdotto in effetti un particolare regime di tutela per le banche dati non per i singoli dati ma per le banche dati cioè un diritto che tutela diciamo lo sforzo e l'investimento che si fa per raccogliere grandi masse di dati tenerle aggiornate tenerle validate e farle funzionare ok ma non sui singoli dati quindi vedete più che altro dobbiamo parlare di un copyright anche se in realtà anche copyright non è la parola giusta perché il nome vero è diritto sui generis sulle banche dati quindi a ben vedere non sono i dati in sé da essere tutelati ma le banche di dati o database se vogliamo dire l'inglese in altre parole i dati sono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati in un database e solo se questo database ha richiesto un rilevante investimento per la sua realizzazione oppure e qua aggiungo un livello che qua nella sala non c'è se l'organizzazione dei dati è così creativa per cui la banca dati non è solo un semplice database ma è una banca dati creativa quindi è qualcosa di più rispetto al database tutelato dal mero diritto sui generis non vi voglio adesso purtroppo non abbiamo tempo di andare così tanto a livello di dettaglio vi faccio però vedere questa slide che vi fa più o meno capire di cosa parliamo cioè vedete che si creano degli strati di tutele abbiamo detto che sui semplici dati e sulle informazioni non c'è nessuna tutela infatti è praticamente qui è piatto lo schema abbiamo poi il database non creativo che è tutelato da un solo diritto sui generis abbiamo poi il database che ha invece un carattere creativo che è tutelato sia da un diritto sui generis che anche da un diritto d'autore vi faccio due esempi veloci perché così capite allora una banca dati non creativa classico esempio è l'elenco telefonico che in questo caso è anche una banca dati analogica cioè le pagine bianche quelle che vi portano a casa quello è un esempio di banca dati analogica quando prima vi ho parlato di banca dati analogica non mi è venuto in mente però ecco perché non è creativo quel tipo di banca dati perché i numeri di telefoni gli indirizzi non sono organizzati secondo un criterio creativo cioè non è che a seconda dell'autore che la fa vengono fuori diverse le pagine bianche devono essere uguali a se stesse cioè devono raccogliere i numeri di telefono in ordine alfabetico e divise per comune non ci sono altri criteri perché se uso altri criteri la gente poi non li trova quindi ordine alfabetico e ordine e suddivisione per comuni o aree geografiche punto quindi vedete che non c'è creatività c'è uno sforzo però a volte importante massiccio di raccolta organizzazione e soprattutto aggiornamento di quei dati ci sono però situazioni in cui invece c'è anche un database creativo pensate all'esempio che dicevamo prima di un database di fotografie che però non solo è raccoglie delle fotografie ma raccoglie le fotografie disponendole secondo un criterio ad esempio per stili per scelta non so per importanza dell'autore allora lì è diverso perché perché l'autore della banca dati non so ipotizziamo che l'autore di questa banca dati è oliviero toscani o vittorio sgarvi qualche nome grosso che dice io firmo questa banca dati di quadri o di fotografie lì non organizzo i quadri o le fotografie secondo il semplice criterio alfabetico o numerico ma li organizzo secondo il mio modo di raccogliere questi dati e quindi a seconda di chi la fa la banca dati viene fuori diversa ok è un esempio che vi faccio giusto per darvi un'idea di cosa per darvi il quadro completo vi dico che in realtà nella maggior parte dei casi quando noi parliamo di open data in realtà siamo qua cioè abbiamo a che fare con banche dati con database non creativi cioè di tabelle sostanzialmente a doppia entrata tabelle su file foglio di calcolo diciamo o csv ancora meglio quindi divisi semplici numeri divisi da numeri dati nomi misure quello che volete divisi da virgole che vengono poi messi in una colonna o Enrico e Colonna e quella roba lì ovviamente non ha un criterio di organizzazione particolare anzi devono essere il più assetti che possibile in modo tale che permettano una maggiore interoperabilità le cose che abbiamo già detto prima e quindi capito come funziona la tutela delle banche dati e capito come il dato in sé non è tutelato se non appunto organizzato all'interno della banca dati arriviamo a capire come funzionano invece le licenze open in questa parte 3 vi faccio le licenze open to cure in senso generico e poi arriviamo alle licenze open per dati vediamo se l'ora sì ok quindi riprendo la la mia slide orientativa di prima per farvi capire che adesso esattamente parliamo di questo ok quindi che cos'è una licenza d'uso allora quando vedete la parola licenza d'uso dovete sempre pensare al concetto di diciamo la sua etimologia latina licere vuol dire permettere d'autorizzare quindi c'è un atto autorizzativo tizio autorizza Caio a fare qualcosa il in termini più tecnici il licenziante cioè il titolare dei diritti potrebbe essere l'autore potrebbe essere l'editore potrebbe essere il produttore discografico dà in licenza un'opera che è un'opera che viene detta licenziata sotto licenza a un licenziatario cioè colui che riceve in licenza l'opera ok quindi se voi scrivete un articolo e lo pubblicate con licenza creata di commons siete direttamente voi licenzianti e i licenziatari ecco facciamo un esempio qua scusate io sono autore di queste slide le ho messe sotto licenza creata di commons quindi sono il licenziante di queste slide e voi che le utilizzerete che le state già utilizzando perché adesso le state in un certo modo rendo siete licenziatari di questa mia slide questa mia presentazione licenziata sotto creata di commons quindi una definizione sintetica che è una licenza d'uso per opere creative è in sostanza un documento con cui il titolare dei diritti regolamenta l'utilizzo della sua opera e ne autorizza alcuni usi ci sono sempre due anime lo vedremo una parte con le autorizzazioni concesse in una licenza d'uso vedremo c'è una parte in cui il titolare dei diritti ci autorizza a fare delle cose e deve esserci sempre una forma di autorizzazione perché se no non si chiamerebbe licenza ok e una parte con le condizioni imposte cioè cosa lui mi chiede perché io posso utilizzare la sua opera vabbè sì questa parte qua possiamo saltarla questo l'abbiamo già detto se non il fatto che ha due vedete due anime una questa qua ripete perché è una slide che ho riportato da un'altra presentazione quindi da una parte l'anima in cui si definiscono le libertà per l'utente dall'altra le condizioni per l'utente per l'utilizzo e a seconda che prevalgano l'una o prevalgano le altre noi possiamo parlare di licenza open e di licenza proprietaria prima ve l'ho già accennato voi aprite la licenza di Windows o di Mac OS o di Photoshop e vedete che la licenza in realtà è proprietaria cioè è uno strumento che serve per aggiungere vincoli all'utilizzo dell'opera rispetto a quelli che normalmente già la legge attribuisce ed è ben diciamo spiegato in questa metafora che io utilizzo sempre del cartello all'ingresso di un parco io entro in un parco e prima di entrare c'è questo cartello che mi dice cosa posso fare e cosa non posso fare ok il parco è nella metafora è l'opera l'opera creativa che devo utilizzare e se io ho una licenza proprietaria scopro che questo cartello sostanzialmente mi permette magari di entrare tra le ore dalle ore 9 alle ore 13 però mi ricorda che dalle ore 13 in poi il parco è riservato solo agli iscritti all'associazione X che è vietato portare il cane è vietato giocare a palla ed è vietato raccogliere i fiori ok quindi una serie di divieti per cui dico vabbè ok ho capito posso fare alcune cose molto ristrette però mi stai dicendo che buona parte delle cose non le posso fare la differenza invece vedete nella licenza open è che prevalgono le libertà cioè la licenza diventa open perché garantisce tutta una serie di libertà all'utente e i divieti rimangono in secondo piano e come è già stato detto le Creative Commons non è una licenza Creative Commons ma sono più licenze in realtà non sono 50 sfumature ma sono 6 6 più 1 dopo vi faccio vedere perché e quindi grazie a queste sfumature appunto grazie alle licenze Creative Commons ha creato appunto una gradazione vedete tra il nero e il bianco che avevamo prima prima avevamo o tutto sotto copyright e tutti i diritti riservati oppure nessun diritto riservato nel pubblico dominio per avere una situazione grigia invece posso far leva sulle Creative Commons che dicono alcuni diritti riservati alcuni diritti riservati è il motto delle Creative Commons e le trovate qua ecco questa è una slide molto semplice che mette in ordine vedete le 6 licenze Creative Commons più una che adesso vi spiego dalla più libera alla più restrittiva la più una cosa vuol dire la più una è questa qua la CC0 la CC0 non è una vera e propria licenza è una dichiarazione per rilasciare in pubblico dominio le opere cioè come vi ho detto a un certo punto le opere vanno in pubblico dominio perché non hanno più un copyright ecco se io voglio anticipare questo passaggio invece di aspettare che io sia morto da più di 70 anni posso rilasciare le mie opere con un CC0 cioè con un rilascio di pubblico dominio è una dichiarazione in cui io prometto di non esercitare più i miei diritti d'autore da qua per i secoli dei secoli quindi l'opera de facto diventa di pubblico dominio o comunque diventa qualcosa di molto simile al pubblico dominio ecco perché è in questa posizione perché in realtà questo è molto più libero rispetto ad una Creative Commons perché una licenza una licenza Creative Commons come da attribution in giù è sempre comunque una licenza cioè il titolare dei diritti rimane licenziante della sua opera quindi mantiene la titolarità dei diritti ma semplicemente mi autorizza alcuni usi con il CC0 invece quello là in alto il primo il titolare rinuncia ai diritti ok quindi è molto più radicale come scelta ma ve la faccio vedere perché è importante perché diventa spesso molto determinante proprio nell'ambito degli open data soprattutto degli open data pubblici cioè tutti quei casi in cui i dati sono raccolti da pubbliche amministrazioni in come dire nell'esercizio di una loro mission istituzionale non so pensate a pensate al comune di X il comune di Lodi che raccoglie i dati su i PM10 l'inquinamento atmosferico durante l'anno deve farlo perché è un'esigenza di monitoraggio della qualità dell'aria e che ne so il ministero dell'ambiente gli chiede quindi lo deve fare non è che può scegliere ecco in tutti quei casi usare CC0 sembra la cosa più intelligente perché sono dati pubblici sono dati che non appartengono in realtà a nessuno se non ai cittadini la pubblica amministrazione è solamente il mezzo è solamente l'ente che è preposto a fare questa attività ma non è la vera e propria proprietaria di quel dato e quindi rilasciare in CC0 potrebbe essere la scelta migliore nell'ambito scientifico vedremo dentro il gioco invece quasi sempre l'attribution e l'attribution che era like questa slide è fatta molto bene io l'ho solamente tradotta è un'infografica di cui trovate i credits lì a destra che è davvero a prova di ragazzino di scuola media cioè io mi trovo di fianco qua vedete la licenza quindi io trovo un'opera una fotografia un articolo che è sotto CC BY ND ecco vado di qua a destra e vedo cosa posso fare cosa non posso fare ok idem con le altre licenze quindi se voi vi stampate questa slide e ve la tenete lì è davvero un come dire un va de mecum per capire come funzionano le creative commons così pronto all'uso ok vedete qua c'è scritto posso farne usi commerciali sì o no posso farne richieste richieste di attribuzione sì o no ah ecco non vi ho detto una cosa scusate le licenze prendono il nome diciamo dalle loro clausole caratterizzanti attribution richiede l'attribuzione all'autore e quindi l'unica clausola che richiede questa è il fatto che io riconosca che questo articolo è fatto da tizio e da caio lui mi chiede solo quello per il resto posso fare tutto quello che voglio anche venderla anche farne una pubblicazione poi messa ad esempio in vendita in libreria in edicola attribution share alike chiede che anche nel caso si facciano opere derivate si affacciano delle rielaborazioni dell'opera vengano rilasciate anche le rielaborazioni sotto la stessa licenza lo share alike è questo quello che nell'ambito informatico quando domani vi parlerà Marco Ciurcina si chiama copyleft ok lo capirete meglio domani però è abbastanza chiaro io rilascio il mio articolo concedo di farne anche modifiche ma se uno fa una modifica del mio articolo deve rilasciare anche la versione modificata sotto licenza creative commons ah ecco le mie slide sono proprio sotto questa qua attribution share alike quindi uno prende le mie slide vuole farne un'infografica vuole farne un video divulgativo lo può fare ma a condizione che anche a condizione che uno citi il mio nome come coautore e che anche il video realizzato o l'infografica realizzata sia rilasciata sotto la stessa licenza ok poi c'è l'attribution o derivatives cioè non vuole che vengano fatte opere derivate e poi c'è le stesse tre cose con l'aggiunta del non commercial cioè praticamente l'autore titolare dei diritti ci chiede di diciamo tenere una distinzione tra gli usi commerciali e gli usi non commerciali quindi scusate sono tornato perché così abbiamo completato il quadro questa è la slide che dicevo prima da tenere lì pronta all'uso e poi arriviamo finalmente così verso la fine a parlare di licenza open data per cioè perché tutto questo no perché non ho iniziato subito a parlare di licenza open data perché capite come sarebbe stato difficile senza tutto questo background perché perché per parlare di licenza open data dobbiamo capire ad esempio che cos'è questo diritto sui generis cioè è centrale il diritto sui generis perché una licenza che non tratta correttamente non licenzia correttamente il diritto sui generis è una licenza che non funziona bene sulle banche dati e quindi non funziona bene per l'open data quindi una licenza che funzioni bene una licenza d'uso che funzioni bene su una banca dati quindi che faccia l'open data deve trattare correttamente il diritto sui generis questione non da poco proprio perché ce ne siamo accorti sulla nostra pelle cioè quando abbiamo iniziato a parlare di open data io ero già in questo mondo da un po' erano diciamo i primi gli ultimi anni del 2009 del 2010 quegli anni sono stati un po' gli anni caldi dell'open data ci si è accorti che le licenze creative commons che c'erano a disposizione all'epoca non funzionavano sul diritto sui generis perché perché il diritto sui generis come vi ho spiegato prima esiste cioè è creato da una direttiva europea quindi esiste solo nell'ambito dell'Unione Europea le licenze creative commons venivano dal contesto americano e quindi loro questo diritto semplicemente non ce l'hanno non ce l'avevano non ce l'hanno nemmeno ora e quindi le creative commons che c'erano fino al 2014 2013 non ci avevano semplicemente pensato e quindi utilizzare una licenza creative commons su una banca dati non faceva avere open data perché c'era un buco sostanzialmente non funzionavano bene in Europa questo problema finalmente poi è stato superato all'inizio c'erano appunto delle licenze creative commons che erano utilizzate per tutte le varie opere anche appunto letterarie musicali scientifiche quello che volete ma avevano questo problema questo buco sul diritto sui generis per fortuna è stato colmato adesso cerchiamo di capire però cosa si intende davvero per open data e lì dobbiamo far riferimento a varie definizioni in realtà la più accreditata è quella fornita dalla Open Knowledge Foundation che è in parte ripresa anche dal nostro codice dell'amministrazione digitale è un testo di legge un decreto legislativo che si occupa di tutti gli aspetti della pubblica amministrazione in ottica digitale e dice che un dato è aperto quindi si parla di open data se è liberamente usabile riutilizzabile e ridistribuibile da chiunque per qualsiasi scopo soggetto al massimo alla richiesta di attribuzione e di condivisione con la stessa licenza ok quindi uso e riutilizzo e ridistribuzione alla massima potenza devono essere liberamente appunto usabili e utilizzabili per qualsiasi scopo e deve esserci al massimo vedete come vincolo la richiesta di attribuzione e di ricondivisione con la stessa licenza quello che noi abbiamo chiamato share alike ne consegue cosa ne consegue che ho saltato volutamente una slide poi ci torno ne consegue che delle 6 più una licenza che vi ho fatto vedere prima la slide è semplicemente ripresa ma modificandola le 3 diciamo coerenti con la definizione di open data sono le prime nel momento in cui io metto già una no derivatives una causa no derivatives , esco dalla definizione del concetto più diciamo a livello internazionale accettato come open data ok quello che ho saltato è una slide che vi fa vedere la panoramica l'evoluzione delle varie direttive europee che parlano di open data c'è stata un'evoluzione escalation verso l'openess all'inizio direttiva del 2003 si parlava di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico vengono chiamate direttive PSI public sector information in questo caso l'obiettivo era quello di favorire il più possibile lo scambio di dati tra le pubbliche amministrazioni cioè evitare che se io devo fare devo iscrivermi ad un albo devo iscrivermi ad una scuola non so qualsiasi cosa e lo faccio in provincia di Parma e poi la stessa cosa la devo fare in provincia di Bologna evitare che il cittadino debba raccogliere lo stesso dato e rifornire alle pubbliche amministrazioni quando invece se lo possono tranquillamente passare tra loro cosa che già se è passato sono passati quasi 18 anni in realtà già questa sarebbe ancora da verificare se è davvero stata implementata ad ogni modo ci sono state poi delle evoluzioni la direttiva del 2007 una versione aggiornata della direttiva del 2003 che è arrivata nel 2013 ma quella più coraggiosa verso l'open data è invece quella del 2019 di cui attendiamo in questi giorni l'approvazione proprio penso proprio questa settimana la scadenza per diciamo il recepimento della direttiva e vedete si chiama apertura dei dati e riutilizzo qui vabbè è un errore direttiva sull'apertura dei dati e sul riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico quindi aggiunge al concetto di riutilizzo anche l'apertura quindi non solo i dati devono essere aperti tra pubbliche amministrazioni ma devono essere aperti to cure devono essere aperti anche verso i cittadini ok vedremo adesso in questi mesi come il nostro legislatore recepirà questa direttiva tornando quindi al nostro schema di licenze siamo arrivati qua la stessa cosa come vedete sostanzialmente è la stessa slide invertita questo è l'elenco delle 7 licenze per T-Commerce con una graffa qua che ci dice quando e come quali di queste rientrano qua uguale strumenti sono licenze che hanno la richiesta di attribuzione e di applicazione della stessa licenza solo la richiesta di attribuzione oppure quello che noi abbiamo chiamato appunto il CC0 dichiarazione di rilascio in pubblico dominio occhio occhio allo share a like perché lo share a like su le banche dati funziona in modo particolare cioè fare cioè integrare una banca dati con un'altra non è come fare il remix di un brano musicale sono due cose molto diverse ciò nonostante molta gente questa cosa non la capisce anche gente qualificata e faccio fatica a farla digerire quindi in realtà diciamo possiamo dire con questa frase molto ad effetto l'utilizzo di licenze share a like sulle banche dati a volte crea più problemi di quelli che risolve perché poi si creano problemi di compatibilità a cascata tra licenze e mi va questo mi va a far saltare l'interoperabilità di cui ha già parlato Dario prima e che è uno degli elementi chiave degli open data fare quindi anche qua stessa slide ho ripreso la slide di prima e ho cancellato le sette scusate delle sette le quattro opzioni che escono dalla definizione di open data niente di più niente di meno e in conclusione la parte 5 arriviamo a capire cosa si intende per open access open science data cioè open access vi è già stato spiegato credo ieri e se ne riparlerà anche un po' domani però parliamo di open access quando abbiamo a che fare con il libero accesso alla letteratura scientifica e i principi del movimento sono stati cristallizzati all'interno della dichiarazione di Berlino credo che questa cosa ve l'abbiano già detta oppure vi verrà detta dai relatori che parlano dopo di me però a me da giurista interessa mettere il focus su il primo dei due requisiti stabiliti dalla dichiarazione di Berlino cioè la dichiarazione di Berlino è un manifesto a cui tutti i grandi atenei del mondo hanno aderito per cui se voglio fare open access e farlo in un'ottica diciamo coerente con quello che il mondo scientifico di tutto il pianeta concepisce io devo rispettare questi due requisiti il primo vabbè questa è un po' l'evoluzione storica che penso non serva in questo caso il primo di questi due requisiti è proprio giuridico cioè il primo dei due requisiti dice che affinché si parli di open access l'autore vedete e o il detentore dei diritti devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurre ovviamente il contenuto utilizzarlo ridistribuirlo trasmettere mostrarlo pubblicamente a produrre e distribuire lavori da esso derivati mantenendo comunque l'attribuzione della padernità intellettuale originaria sembra un tipico barocchismo legalese questo però se ci fate caso ci dice chiaramente quali sono i diritti che devono essere garantiti dagli autori dai detentori di diritti quindi dalle case editrici sui contenuti che vengono definiti open access da qua in poi vi come dire non siete più autorizzati a chiamare open access in siti web delle case editrici che vi fanno per grazia ricevuta scaricare il loro pdf cioè scaricare un pdf senza licenza e senza possibilità magari di fare copia e incolla dal sito dell'editore magari chiedendoci pure di registrarsi non è open access non cadete in questo equivoco l'open access vero si fa sui repository di un certo tipo si fa con le licenze che garantiscono questi diritti in modo irrevocabile ed universale ok infatti se ci fate caso il requisito 2 dice che una versione digitale completa del contributo cioè dell'opera che sia l'articolo che sia l'atto di convegno che sia la monografia non lo so e di tutti i materiali che lo corredono incluso una copia dell'autorizzazione di quel punto precedente cioè la licenza autorizzazione altro non è che un sinonimo di licenza d'uso deve essere depositata e dunque pubblicata almeno un archivio online che impieghi standard tecnici adeguati che sia supportato e mantenuto ok adesso non vado oltre perché sicuramente c'è qualcuno che ne sa meglio di me su questo aspetto io sono più per il punto 1 però ecco il punto 1 già mi dice molte cose cioè mi dice questo la stessa cosa di prima che anche per fare open access quindi come per fare open data delle licenze disponibili del pacchetto creative commons in realtà solo le prime tre sono sono sotto licenza sono scusate nessuno ha dato il telefono sono coerenti con la definizione di open access ok quindi il cc0 l'attribution e l'attribution share alike chiaro? scusate la metto in silenzioso così evito che qualcun altro mi disturbi e le altre sono non dico che siano il male assoluto sono un finto open access sono un semi open access soprattutto quelle non commercial il non commercial non è contemplato nella definizione di open access lo dice chiaramente cioè l'unica l'unica restrizione che si può mantenere è l'attribuzione della paternità intervittuale originaria al massimo è concessa come vedete il cosiddetto share alike perché vabbè lo share alike non vieta di fare di fare opere derivate semplicemente chiede che sulle opere derivate venga messa la licenza la stessa licenza anche lì a volte vi invito a pensarci a volte potrebbe creare più problemi di quelli che risolve quindi un po' meno che sulle banche dati ma anche nell'open access inteso come letteratura scientifica potrebbe fare questo effetto gli stessi scusate qua ho sbagliato gli stessi principi dell'open access si possono ampliare e incrociare con quelli dell'open data quando parliamo di open science data o open research data cioè nel momento in cui io rilascio liberamente il mio articolo il mio paper in cui spiego la mia ricerca ora abbiamo anche la tecnologia e gli strumenti per mettere a disposizione non solo il testo ma anche i dati che sostengono le conclusioni a cui io sono arrivato ok che è quello che ci ha già detto che ci ha mostrato bene prima Dario quindi qua ho messo una definizione da wikipedia molto molto come dire base però insomma gli open science data vengono dati come vedete vengono considerati come un sottoinsieme degli open data cioè un tipo di open data mirati a pubblicare le argomentazioni e i risultati dell'attività scientifica in modo che possano essere analizzati e utilizzati da chiunque binchè l'idea di open science si è promossa già dagli anni 50 quindi non è che anzi come è già stato detto in realtà l'idea di open science risale forse a Galileo no il fatto di mettere a disposizione tutti gli strumenti per poter replicare le mie conclusioni i miei esperimenti però il concetto di open science in senso moderno risale già agli anni 50 però finché non è arrivata internet finché non sono arrivate certi tipi di tecnologie e un certo tipo di consapevolezza da parte degli utenti verso le tecnologie non si poteva davvero fare adesso lo possiamo fare adesso con l'avvento di internet con la diffusione di internet come fenomeno di massa possiamo mettere a disposizione grandi masse di dati per rendere per sostenere quello che noi abbiamo scritto in un articolo in una monografia e via dicendo questa definizione viene invece dal sito della commissione europea dice che gli open resource data sono quei dati a sostegno dei risultati della ricerca che non presentano restrizioni di accesso e che siano quindi accessibili da chiunque attraverso la rete internet e come vi ho detto è una questione vedete di verifica e riproducibilità qua ho messo una nota immagine di Galileo e vi metto il link a Retraction Watch che è un sito che vuol dire in inglese semplicemente osservatorio delle ritrattazioni e guarda caso da quando si parla di open science e di open science data cioè da quando oltre ai paper viene chiesto di mettere a disposizione della comunità scientifica anche il set di dati guarda caso sono aumentati questo blog ci fa notare sono aumentati i casi di ritrattazione di articoli anche da parte di professoroni di ricercatori di centri di ricerca importanti perché caspita perché vengono fuori le magagne la gente ma non necessariamente per cattiveria o per incompetenza perché a volte insomma sei guardi essendo un martello guardi tutto come un chiodo e magari arriva quello che ha un punto di vista diverso dal tuo che guarda i tuoi dati con occhi diversi con occhi neutri e ti dice ma guarda questa cosa qua non l'hai considerata e magari cambia tutto e caspita allora hanno fatto un sacco di ritrattazioni andate a vedere i grafici delle ritrattazioni in conclusione da un po' di anni a questa parte cioè insomma la seconda metà degli anni 2010 tra il 2010 e il 2020 quando è diventato diciamo centrale il progetto Horizon 2020 con i vari documenti le varie linee guida rilasciate si è iniziato a parlare appunto non solo di open access ma anche di open data di open science data per cui l'Unione Europea cominciava a forzare un po' la mano sul discorso della disponibilità dei dati non era diciamo obbligatorio nel senso che nelle linee guida di Horizon 2020 era obbligatorio l'open access cioè era obbligatorio che tutti i contenuti di ricerche prodotte grazie ai finanziamenti di Horizon 2020 dell'Unione Europea venissero rilasciati con licenze open access questo era scritto chiaramente e si diciamo incoraggiava anche a fare già il passo degli open science data cioè di dare anche sempre con licenze open e in ottica fair come vedremo anche i dati della ricerca dal 2020 in poi quindi nel mondo in cui siamo adesso si dovrebbe fare il passo successivo cioè non più solo open access ma anche open data open research data e insieme chiamati diciamo più ampiamente open science se andate a vedere questo link chiaramente viene spiegato che cosa vuol dire fair vi faccio come dire vi metto nella slide questa infografica secondo me molto efficace fatta da Easter Day Paulson questi vedete citati e a sua volta rilassato sotto licenza ccbye motivo per cui io l'ho potuto prendere utilizzare nelle mie slide senza problemi in cui fa capire cosa vuol dire fair no vedete fair findable accessible interoperable and reusable non cadete in equivoce anche lì perché visto che di questo fair hanno già storpiato più volte il significato basta nel senso che sono arrivato all'obiettivo qua ci sono i miei riferimenti ripeto ecco ho aggiunto linkedin che di là forse non c'era quindi per chi usa linkedin per la sua rete professionale avrei piacere se mi manda il suo contatto e come vi ho promesso vedete nell'ultima slide la licenza quindi queste slide sono sotto licenza creative commons attribution share alike in coerenza con le cose che vi ho raccontato